un'estate al mare voglia di remare finalmente finalmente l'estate questa vettura più più bella per l'estate è la 500 una del poche rimaste lounge con 40 mila chilometri di dicembre 2018 il prezzo è veramente strepitoso con l'adesione del finanziamento baccanelli for you sono 13 mila e novecento euro compreso al passaggio per avere questo gioiello chi non aderisce al finanziamento sono circa 14 mila e 9 il passaggio su 15 e mezzo vettura veramente strepitosa pronta consegna